ciao a tutti oggi facciamo qualche test con l'adsb del Mavic Air 2 mi sono portato qualcosa che mi permetterà di trasmettere in adsb lo farò a bassissima potenza ovviamente e sopra qui a casa mia c'è il solito ricevitore che ho ormai da tantissimo tempo quindi vedremo se effettivamente funzionerà l'adsb receiver del Mavic Air 2 per chi non lo sapesse l'adsb fa parte di quel sistema di sorveglianza dei cieli che servono appunto per far sì che gli aerei non non si incontrino fra di loro e che quindi mantengano sempre una determinata distanza tra tutti questi sistemi c'è ad esempio il radar che molti conoscono e l'adsb è un sistema abbastanza innovativo in cui ci sono delle delle particolari apparecchiature che ricevono tramite il gps le coordinate dell'aereo e tramite altri sistemi di comunicazione all'interno dell'aereo ricevono anche la velocità e altri se ad esempio sta l'altitudine ad esempio o qualche altro particolare sistema identificativo che dice se sta avendo dei problemi o meno quel tipo di aereo che in quel momento sta trasmettendo via adsb e tutti questi dati vengono inviati spontaneamente da questa unità sia alla torre di controllo che anche ad altri aerei quindi ogni aereo anche un ricevitore adsb che gli permette di guardare la situazione che c'è intorno a sé quindi capire se vi sono altri aerei intorno alla sua aeromobili intorno alla sua posizione perché questo è molto famoso l'adsb perché diciamo negli ultimi anni si è stato possibile capire come funziona la trasmissione ad sb e pertanto decodificarne i segnali tanto da poterlo fare anche anche se non si è del settore aeronautico con l'avvento di della tecnologia sdr si sono potuti costruire dei ricevitori ecco qui ne ho visti alcuni ne ho selezionati alcuni partendo da semplici radio sdr con una raspberry ed un determinato software capace di decodificare i segnali adsb è stato possibile riceverli creare delle stazioni base non prettamente aeronautiche quindi anche di amatori e tutte queste stazioni unite insieme tramite internet hanno dato vita a siti come questo che è famosissimo che si chiama flight radar 24 dove si possono osservare tutti gli aerei che ci sono in europa e nel mondo perché ci sono sbagliati server la peculiarità di questa di questo tipo di trasmissione e anche la facilità di uso è dovuto al fatto che si utilizza una frequenza che non necessita di antenne grandissime la frequenza di 1090 megahertz quindi sono antenne più o meno grandi come quelle dei dei nostri cellulari o insomma una decina una ventina di centimetri a seconda di come la si vuole rendere più o meno efficiente ecco qui questi sono alcuni degli aerei che in questo momento stanno sorvolando la nostra penisola per creare questo sito dicevo ci sono delle stazioni base tre di queste stazioni le leo io e in manutenzione una è proprio vicino e una è proprio a casa mia ecco questo è per esempio un elicottero che sta sorvolando sorvolando sette bagni da quasi nota che è possibile anche ricevere non solo gli aerei di linea ma anche qualsiasi tipo di velivolo che sia dotato di questa tecnologia eccolo questo è l'acrf un ricevitore trasmettitore che fa varie frequenze fra cui anche quella di sb all'interno c'è una radio sdr esattamente come quella che c'è all'interno del del Mavic Air vediamo un attimo quello che può fare e se riceviamo da casa la sua trasmissione prepariamo l'acrf in modo da trasmettere sulla dsb ecco io qui inserirò la posizione di casa mia metterò un altitudine di 250 piedi in modo che sia abbastanza vicino al terreno non credo che inserirò una velocità e adesso qui è possibile settare il il gain della trasmissione apriamo l'app dj fly modificata da florin di cui vi lascerò nelle note il link per contattarlo controlliamo che sia attivo l'air sense sul sul controller eccolo e partiamo take off premo start e attiviamo la trasmissione ed ecco su radiocomando che mi dice mi dice che è stato creato un oggetto sulla mappa riportante un velivolo nelle vicinanze del mio drone ed ecco infatti lo vedete è quel pallino rosso che c'è sulla mappa che guarda caso è proprio su casa mia vediamo ciò che succede sul ricevitore del mio sdr adsb e infatti si è creato l'icona si è creata l'icona di un aereo faccio un attimo lo zoom un secondo eccolo qui adesso si apre sulla sinistra una finestrella che riporta le informazioni di questo aereo che si chiama test 1234 con altitudine 250 piedi è proprio quello che abbiamo creato noi per per far far entrare in funzione il sistema air sense del nostro drone e questa è la riga che riporta il nostro il nostro aereo il nostro aereo fittizio eccolo ancora lo si vede sulla mappa e adesso lo fermo ecco qua la trasmissione è stata stoppata e fra un attimo scomparirà il pallino rosso eccolo è scomparso come ultima informazione di questo video vi faccio vedere come si presenta il modulo del adsb all'interno del mavic air 2 nella parte inferiore si nota l'antenna del gps nella parte superiore c'è l'integrato del adsb eccolo questo è il circuito integrato ecco qui ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti